Musica Giovedì 22 marzo, buona giornata a tutti amici di Udinews TV. Siamo pronti come di consueto ad incominciare questa giornata assieme con la lettura dei quotidiani nazionali e locali e ancora la politica in primo piano. Siamo il giorno dopo alla grande decisione, quella del centro-destra, la scelta del candidato presidente per le regionali 2018. Alla fine la spuntata a Fedriga, andremo a vedere le varie reazioni dalla stessa coalizione ma anche dagli avversari. E poi anche le ripercussioni di accordi a livello nazionale per il futuro governo tra centro-destra e 5 Stelle. Prima di iniziare però uno sguardo live alla situazione del traffico sulle autostrade della nostra regione perché lo vediamo assieme. Sono ben due gli incidenti segnalati dal infotraffico di Autovie Venete. Il primo, ci concentriamo nella zona di Sacile, al confine tra Friuli, Venezia, Giulia e Veneto, lungo la A28, la Porto Gruaro-Conegliano. C'è stato un incidente al chilometro 37 tra Godega di Sant'Urbano e la barriera di Cordiniano. L'altro incidente invece si è verificato all'altezza di Padova sulla A57, la tangenziale di Mestre, in direzione Trieste. L'incidente è avvenuto tra il Bivio A4 e Mirano-Dolo. Questo per quanto riguarda la situazione nel tratto veneto della A4, tangenziale di Mestre. Mentre tornando alla nostra regione viene segnalato vento forte in prossimità della barriera del Lisert tra Redi Puglia e Trieste. Quindi le condizioni meteo continuano ad incidere sulla situazione. Poi sono i consueti lavori per la terza corsia nel tratto tra Palmanova e Porto Gruaro. Questa è la situazione del traffico. Torneremo a avagliarle eventualmente se ci saranno sviluppi. Partiamo dunque con le prime pagine dei quotidiani nazionali, con il Corriere della Sera. L'apertura è dedicata al caso Facebook con le dichiarazioni di Mark Zuckerberg, il fondatore della Social Network, che dice Colpa mia. La situazione dopo il caso dei furti dei dati venduti. Il capo di Facebook dice commessi errori, dobbiamo correggerli, appelli al boicottaggio. Interviene anche il fondatore, appunto indaga l'Agenzia Americana dei Consumatori. Lo scandalo, lo leggiamo assieme, dei dati raccolti fanno intervenire Zuckerberg. Abbiamo fatto molti errori e li correggeremo. Anche io sono responsabile, ha dichiarato sulla sua pagina delle social media. Se non proteggiamo i vostri dati non vi meritiamo. Dichiarazioni insomma forti. Vedremo se porteranno altri effetti. A centro pagina, la fotonotizia, vede il Papa, Papa Francesco in primo piano, la questione dei due papi. Il Vaticano si è rimesso infatti Monsignor Dario Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione. Era finito nella bufera dopo la diffusione parziale del messaggio di Ratzinger in difesa di Bergoglio e della comunità dei due pontificati. Per quanto riguarda le altre notizie, di taglio alto la politica sul Corriere. Vediamo l'aggiornamento sulla situazione in vista della scelta dei presidenti delle Camere. Presidenza e Berlusconi dice invita Di Maio vertice con i leader del PD. Dubbi del Movimento 5 Stelle. Continuano dunque le trattative per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Dopo il vertice di ieri tra Salvini, Berlusconi e Meloni, Berlusconi è aperto a Di Maio e prende corpo l'ipotesi di Romani per il Senato, mentre alla Camera si profila la scelta di un esponente dei 5 Stelle. In questa operazione è rientrata, poi lo vedremo assieme, anche la decisione, il cambio per il candidato presidente in Friuli Venezia Giulia. Vediamo assieme anche la vignetta di Giannelli, Renzi in Senato. Io guardo avanti. Ritratto tra i parlamentari Edem e poi le altre notizie, storie e volti, il segnale della Fed, la prima stretta di Powell, rialzati i tassi e ancora la politica fiscale, la grande svolta dell'Europa sulla web tax. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera, ci spostiamo ora su Libero. Vediamo assieme il titolo d'apertura, 7 miliardi nostri buttati nell'accesso di Montepaschi. Ancora un titolo forte per il quotidiano. Diretto da Vittorio Feltri, il capolavoro del ministro Padua, nell'istituto continua a bruciare soldi, l'amministratore delegato non ha la visibilità sui conti, MPS sta peggio di prima dell'intervento pubblico. Grana enorme per il prossimo governo. Anche Libero poi sceglie il Papa, o meglio i Papi con la fotonotizia centrale, perfino i Papi litigano, sembrano politici Ratzinger furioso per i tagli galeotti alla propria lettera. E poi le altre notizie, vediamo i dati sulle vendite dei quotidiani, Cairo guadagna ancora più 24 in borsa nell'anno, De Benedetti invece con Repubblica a seguita a perdere, meno 40%. Questi risvolti sul piano dei grandi editori dei quotidiani. Andiamo ora su Il Foglio, con le sue consuete analisi per quanto riguarda la principale. Il titolo dice, nuovi totalitarismi, il mito farlocco dell'infallibilità della rete. Dal caso Facebook al caso Casaleggio, la società senza gerarchie è una truffa che porta alla fine della democrazia. E poi ancora gli esteri con Sarkozy che ci ha fatto ridere, ma adesso come modello fosco di un decisionismo che si trasforma in qualcosa di allarmante. Ci fa sospirare i riferimenti al fermo dell'ex presidente francese dopo appunto il caso dei fondi arrivati dalla Libia per la sua campagna elettorale. Andiamo ora su Il Giornale, vediamo anche in questo caso il titolo d'apertura. Si va a puntare alla sanità, vietato curarsi negli ospedali migliori, non ci sono più soldi. Stretta sui rimborsi alle regioni virtuose contro il turismo sanitario. E a rimetterci sono i pazienti. E poi la politica, il terrore dei grillini, andare al governo con il centrodestra PD sulla Ventino, fuori dai giochi. E poi a centropagina la mossa a sorpresa, anche qui il caso Vaticano. Si dimette Viganò, il portavoce del Papa, censurò le critiche di Ratzinger a Bergoglio. E ancora gli esteri a centropagina, soldi da Gheddafi. Ecco le prove, Sarkozy torchiato e indagato allo scandalo tangenti libiche. 20 milioni all'ex presidente. Continuiamo la nostra carrellata sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Andiamo su il fatto quotidiano. E qui c'è la politica. Senato, Berlusconi non riesce a trovare uno di Forza Italia incensurato. Forza Italia propone appunto un presidente condannato per peculato. Il caso di Romani, no, di 5 Stelle e Lega. E ancora, a centropagina, l'ONU contro Minniti. È il liberale e la polizia che decide vero o è falso? La bocciatura è l'iniziativa da paese non proprio democratico, ma quali fake news. E ancora alcuni spunti che troviamo sempre sul fatto. Spielberg, alla sua intervista, sono nato prima della TV, la privacy è l'ultimo baluardo. E poi un'altra operazione che sconquassa la capitale, Repubblica Espresso, vertici perquisiti e indagati per truffa. Continuiamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Andiamo sulla stampa di Torino. Berlusconi a Di Maio. Trattiamo questo titolo d'apertura, mossa dopo il vertice del centrodestra. 5 Stelle replicano, non voteremo indagati. Leader di Forza Italia, vediamoci tutti assieme. Il PD prova a uscire dall'angolo, Franceschini per Montecitorio. A centro pagina, la fotonotizia ricorda che oggi è la giornata mondiale dell'acqua. Le guerre segrete per il controllo dell'acqua. Rapporti di ONU e CIA mettono le risorse idriche in cima alle emergenze. Ancora avanti con le prime pagine dei quotidiani nazionali, il manifesto. E ritorna la foto che abbiamo visto molto in campagna elettorale, quella di Berlusconi che asciuga il sudore dalla fronte di Salvini. Il titolo di oggi è Foglie di Fico. Il centrodestra trova una finta intesa sulla presidenza di Camera e Senato per Montecitorio via libera al grillino Fico, gradito anche a PD. Ma per Palazzo Madama e braccio di ferro sul candidato forzista Paolo Romani. I Dem lo vogliono e i 5 Stelle no, è indagato. La Lega dovrebbe scegliere questa appunto la notizia nella prima pagina del manifesto. Andiamo a vedere anche di taglio alto, invece ritorna la questione Zuckerberg. Abbiamo sbagliato il mia colpa del fondatore di Facebook dopo il caso Cambridge Analytica con il furto dei dati. Ancora dalle prime pagine dei quotidiani andiamo sulla Verità. Il giornale diretto da Maurizio Belpietro trova di titolo d'apertura la questione dei papi. Sappiamo quanto il giornale e lo stesso Belpietro abbia dedicato alla questione Vaticano. Tanti articoli, tanti libri. La vendetta di Ratzinger. Il titolo di apertura di oggi. Bergoglio perde un altro pezzo. Salta Monsignor Viganò, il responsabile della comunicazione vaticana. A centro pagina, invece, il caso MPS, profumo a processo e i vertici MPS accantonano i soldi per le buone uscite. Sempre dalla prima pagina della Verità, a ritaglio centrale, la mina del PD sotto l'asse Movimento 5 Stelle lega l'accordo tra Di Maio e Salvini, sembra reggere ma con il coinvolgimento di Berlusconi. Nei partiti le basi sono in fermento e tutto può saltare facendo rientrare in gioco gli sconfitti. Di taglio basso un'altra notizia riguarda la sanità. Un parto su tre cesareo si guadagna di più. Italia fuori dagli standard europei. L'ultima prima pagina che vi proponiamo è quella del Corriere della Sera. I temi economici in primo piano, cioè l'allarme social network ma visto in chiave borsistica perché appunto i mercati ne stanno risentendo e così insidiano le borse. La class action su Facebook, Zuckerberg, sono responsabili del furto dei dati. Per quanto riguarda invece l'economia americana, la Federal Reserve rialza i tassi e rivede le stime del PIL americano. Sempre per quanto riguarda l'economia ma in chiave europea c'è appunto il richiamo sull'Unione Europea che rilancia subito la web tax del 3%. Queste erano dunque le prime pagine dei quotidiani nazionali. Ora ci spostiamo su quelle locali per vedere dunque la scelta definitiva del centro-destra per quanto riguarda il candidato presidente alle regionali e lo troviamo qui nel titolo di apertura. Il centro-destra, il candidato è Fedriga, segnali di apertura agli alleati, Salvini rassicura non escluderemo nessuno. La giornata del centro-destra si è fermata dunque ieri nel primo pomeriggio è arrivata la conferma di Massimiliano Fedriga. Triestino, 37 anni, deputato da 10, capogruppo uscente alla Camera è lui il candidato del centro-destra alle regionali che prende il posto appunto di Renzo Tondo che era stato indicato sabato scorso. A centropagina invece si ritorna sul crack delle banche venete sequestrate a zonin quadri, tappeti e argenteria nella villa palladiana del Vicentino. Le altre notizie di politica, le ripercussioni per quanto riguarda il comune di Udine dopo la scelta di Fedriga, Fontanini torna in bilico, Forza Italia vuole Alberto Bertossi i simboli erano pronti ma ora è tutto da rifare. E ancora le altre notizie, la cronaca con la napoleonica, l'autovelox che non perdona e fa discutere ogni giorno decine di multe. E ancora le tariffe salate per colpa dei pendolari dei rifiuti andremo a vederla assieme, un caso che interessa Udine e città. E ancora risparmio e sicurezza al preside. A scuola non si ricaricano i telefonini, questa è la notizia che riguarda il mondo scolastico. Di taglio basso abbiamo anche la news che è arrivata ieri da Bologna al tiramisù, la finale amara per Tolmezzo nella sfida con Treviso il capologo carnico ha perso. Andiamo ad approfondire dunque nelle pagine interne le questioni che abbiamo visto nei titoli di apertura del messaggero e c'è l'intervista in doppia pagina a Massimiliano Fedriga verso il voto per azione ascolto per governare il Friuli Venezia Giulia. Il candidato del centrodestra annuncia modifiche su enti locali e sanità come ci ha confermato del resto ieri nella nostra intervista al Tg delle 19 e poi subito il confronto con i sindaci sulle province, decideremo in squadra la risposta di Fedriga. In questi passaggi, nell'intervista rilasciata a Nabutazone, andiamo a vedere anche alcune dei suoi virgolettati, per esempio, c'è stato un dibattito acceso ma il risultato finale è ottimo con una coalizione unita. Questa è la risposta a chi gli chiedeva della confusione che si era generata all'interno della coalizione e poi ho visto una partecipazione popolare incredibile che dimostra come le scelte possono e devono venire dal basso. Sono il candidato di centrodestra, non sono e non sarò mai l'uomo solo al comando. Parla anche di Riccardo Riccardi, Fedriga, e dice penso che Riccardi sia un valore aggiunto ma il vicepresidente lo decideremo assieme agli alleati. Ancora, dalle battute di Fedriga, ritroviamo alcuni passaggi. Metteremo mano alla riforma sanitaria di Deborah Seracchiani, che è stata nefasta perché ha tolto diritti alle persone. Non mi piacciono gli enti di secondo grado, nominati dalle forze politiche. Voglio enti scelti dalla gente che può mandare a casa chi amministra male. Infine, ringrazio a Renzo Tondo perché ha dimostrato grande generosità il senso delle istituzioni, facendo parte della nostra squadra. Queste dunque le parole di Fedriga. Parla anche Matteo Salvini, che ieri lo vedete in questa foto. Subito dopo l'ufficialità della decisione ha twittato Massimiano Fedriga, prossimo presidente del Friuli Venezia Giulia. Buon lavoro. E nell'intervista sempre a Anna Butazzoni, Salvini dice non escluderemo nessuno. Il segretario rassicura gli alleati, tutti saranno rappresentati in ogni giunta. Abbiamo scelto il candidato più forte e ridaremo peso e ruolo alla Regione. Questo per quanto riguarda il quadro del centrodestra. Parla anche, tra l'altro, Vagna Gava, eletta deputata per il Carroccio. Era questo il vero desiderio di Massimiliano. E sorride anche Bini, di Progetto FVG, che gongola. Siamo pronti a essere la lista di Max. Si dovranno appunto affrettare per raccogliere le firme. Queste le parole e i riflessi sulla decisione di Massimiliano Fedriga. Ma andiamo a vedere anche le altre reazioni, soprattutto in Forza Italia. Forza Italia che si è trovata con i vertici regionali ieri sera alla sala bingo di Udine. E la disfatta raccontata a una sala semi vuota da Savino Riccardi. Questo è il titolo. Forza Italia strapazzata dalla Lega cerca di rifarsi con Udine. L'ex assessore regionale rinuncia a correre per il Consiglio. Vedete anche le foto di Riccardi della Savino e dei iscritti di Forza Italia nella riunione tenutasi ieri sera. Cosa dice invece il centro-sinistra? Parla Bolzonello e dice Scelta imposta che seppellisce l'autonomia del frio di Venezia Giulia. Bolzonello strizza l'occhio al carnico, inteso tondo. Da parte mia la porta è aperta. Spitaleri poi aggiunge solo uno scambio di poltrone. E ancora l'EU con Sonego che dice Strali di Sinistra Italiana per l'adesione alla lista di Open FWG. Andiamo a vedere anche per quanto riguarda la scelta di Udine, Ribaltone e Fontanini in stand by. L'andremo a approfondire nelle pagine dedicate alla Comune. C'è anche tondo che ieri all'ora di pranzo a Luna aveva convocato una conferenza stampa improvvisa all'interno della quale ha spiegato che lui era a disposizione anche con Fedriga presidente e poi in serata alle nuove dichiarazioni l'ex governatore utilizzato come nel 2003. Dopo il dietrofront romano la mia lealtà è tale che sono comunque serenissimo. Sarò capolista in autonomia responsabile, una squadra competitiva. Non vogliamo essere la civica del presidente. Se per il centrodestra ieri è stato il giorno della verità sulla scelta del nome, per la presidente Serracchiani invece si è trattato di tenere l'ultima giunta regionale. Fatto quasi tutto il programma. Così ha parlato la presidente uscente che ha rassegnato le sue dimissioni dopo l'elezione alla Camera. Completato il 97% delle azioni. E poi aggiunge la legislatura sarà chiusa dal vicepresidente Bolzonello addio anche da consigliere regionale e commissario per la terza corsia. C'è anche stato un passaggio sulla sua giornata e altre notizie. Per esempio per la 4 è stato firmato l'appalto da 151 milioni di euro per il tratto da Porto Gruaro ad Alvisopoli sull'intervento della terza corsia. Giudica anche il suo rapporto con le opposizioni dice che è stato leale e ha ringraziato i consiglieri regionali dei gruppi ex NCD Autonomia Responsabile. E ancora alcune altre curiosità i tulipani in dono dai colleghi di giunta. E c'è anche la notizia che la regione ha ufficializzato la sua costituzione di parte civile per il processo dell'omicidio di Nadia Orlando. Andiamo ancora avanti con le altre pagine del Messaggero Veneto che interessano la nostra regione. C'è una doppia passante per quanto riguarda la sfida del tiramisù che si è tenuta ieri a Bologna, a Italy, di fronte a Tolmezzo contro Treviso. E purtroppo per la comunità carnica si è trattato di una sconfitta. Andiamo a capire perché. Ai trevigiani la gara disputata a Bologna e il sindaco Brollo la rivincita nel 2019 in Carnia. E c'è anche appunto il mea culpa. E' stato servito troppo freddo il dolce e questo ha pesato sulla scelta della giuria popolare. Vedete appunto alcune delle immagini della sfida che si è tenuta a Bologna, a Italy. Tolmezzo tra l'altro ha già dato appuntamento per la rivincita. Oggi invece ne avevamo visto alcuni tratti nelle pagine quotidiane dei quotidiani nazionali alla giornata mondiale dell'acqua e qui si approfitta per fare il punto sui trucchi per risparmiare sulle bollette. Lavatrici di notte, doccia al posto del bagno e gli enti gestori del Friuli Venezia Giulia scelgono di allearsi. C'è un decalogo con le regole antispreco. E poi vedete il Water Safety Plan con i presidenti di CAF, Cabenigno e Acegas, APS e AMGA, Gasparetto una tax force regionale per gestire le emergenze. Andiamo ancora avanti, torniamo ora sulle questioni giudiziarie e con il sequestro, il nuovo sequestro a Zonin per la vertenza popolare di Vicenza, quadri, mobili e argenteria sequestrati i beni di Zonin. Gli avvocati dei risparmiatori nella villa del banchiere, in centro a Montebello e passanti. Prendetegli tutto, ha rovinato i Veneti e ora saremo tutti poareti. Queste le dichiarazioni raccolte, ci sono anche le note dei legali, l'avvocato Bertelle dice finito il processo si potranno fare i pignoramenti, l'avvocato Vittorio invece un raggio di sole per i danneggiati delle ex popolari. Sugli immobili scattano anche i sigilli per edifici e quote societari degli ex vertici. Sono state avviate le operazioni in conservatoria. L'economia con Confindustria che lancia un piano per la montagna servono politiche su misura per far crescere la montagna. Confindustria registra una network di associazioni, aderiscono Udine e Pordenone. La Presidente Mareschi Danieli dice puntiamo a stimolare iniziative finalizzate allo sviluppo economico. e poi ancora via libera alla vendita dell'aeroporto, la giunta approva la delibera, spunta la clausola sociale e l'accordo di investimento. Notizie positive anche per Maniago e le sue coltellerie. In rete nasce Michita, costituita una realtà da oltre 100 dipendenti, la più importante del settore. in Friuli Venezia Giulia. Andiamo ora sulle pagine di Udine del Messaggero Veneto e ritroviamo il caso Immondizie. Tariffa più cara a causa dei pendolari. Andiamo a vedere perché. 2000 tonnellate portate da chi abita in altri comuni sono state appunto raccolte a Udine e smaltite. Un costo che per gli udinesi si aggira tra i 250 e i 300 mila euro l'anno. I numeri di questo fenomeno li rivediamo assieme. 12 mila ai cassonetti a Udine, 50 mila alle tonnellate raccolte in un anno, oltre 2 mila a quelle portate dai pendolari, pari al 4-5% del totale. E appunto 250-300 mila euro il costo annuo. E questo dovrà far riflettere, sarà da capire se comporterà degli aumenti nelle bollette dei cittadini udinesi. La questione mercato vecchio, chiusa la battaglia legale, e si aspetta la sentenza del Tar. Bisognerà attendere la sentenza appunto dopo i ricorsi e i controricorsi con la battaglia che va avanti. A giorni i giudici potrebbero arrivare a una conclusione accogliendo o respingendo il ricorso dei commercianti. Ancora dalle pagine cittadine del messaggero Veneto ritroviamo la politica con le comunali di Udine. Avevamo visto alcune anticipazioni. Per Forza Italia Fontanini ritorna in bilico e si punta su Alberto Bertossi. Il nome che riscatterebbe gli azzurri dopo la scelta di Fedriga. Rivendicano l'indicazione. Savino ha incontrato l'avvocato che però ha preso tempo. Troviamo anche il tweet di ieri di Fontanini che ha fatto i complimenti a Fedriga e dice insieme vinceremo per tutti i friulani e gli udinesi. Vedremo dunque le evoluzioni per quanto riguarda la situazione del centro-destra Udine. Nel frattempo gli altri candidati. Salmè incontra gli artigiani. Tari ridotta alle piccole imprese. E invece Bertossi stasera propone i suoi candidati consiglieri. Uniti possiamo vincere, dice il candidato sindaco di Prima Udine. Andiamo ancora avanti nelle pagine interne del messaggero per dare un'occhiata alle notizie di cronaca. C'è la questione dei telefonini che avevamo visto in prima pagina. Il preside che vieta le ricariche dei telefonini in classe e il dirigente della Zanussi di Pordenone rischiano di danneggiare i PC e imporre il provvedimento. Ragioni di sicurezza e riduzione dei costi. E poi un nuovo caso di violenza sulle donne. Picchia la compagna l'8 marzo e lei decide di denunciarlo. La mamma, neanche 20 anni, è stata colpita al volto mentre aveva in braccio la figlioletta. Lui è tornato in carcere dopo una condanna. Aveva ottenuta una misura alternativa, ora revocata. Lasciamo il messaggero Veneto e andiamo a dare uno sguardo al gazzettino con la prima pagina. Il titolo d'apertura Camere, veti e nuove intese. Il Senato a Forza Italia, a Bernini o Casellati, no, Grillino, a Romani. Poi Bontecitorio e 5 Stelle c'è Fraccaro. In Friuli, invece, vince il Carroccio. La candidatura di Tondo dura soltanto 5 giorni. E c'è anche il richiamo, l'intervista all'interno di Fedriga. Percorso confuso, ma ne siamo usciti uniti. Anche qui troviamo il sequestro di beni a casa di Zonini, il bottino poche migliaia di euro e poi il tiramisù parla Veneto. Andiamo all'interno con le pagine dedicate al Friuli del gazzettino. Eccolo qua, il titolo d'apertura. Sorpasso Lega, Fedriga, candidato. Il Carroccio incassa l'investitura per la presidenza della regione. Tondo non fa una piega, pronto a collaborare. Cosa dice il centrosinistra? All'attacco è stato imposto dai leader nazionali, Bolzonello. Uno spettacolo indecente alla faccia dell'autonomia. Le altre notizie che troviamo sul gazzettino di taglio alto, i saluti della Serracchiani, abbiamo operato bene assieme. La sicurezza invece, stanziati 2,5 milioni di euro per i corpi di polizia locale. Mentre sulla ricerca, la novità, 4 studenti su 5 promuovono gli stage. A centropagina, il gazzettino propone il caso dei pendolari delle immondizie, con la netta che parla di 7 tonnellate al giorno. E poi la notizia del lanci che ha proposto il comunometro, un'adeguatezza dei servizi. C'è questo nuovo indicatore. Sul delitto invece Orlando, la regione si costituisce parte civile. E poi i richiami ai concerti dell'estate a Villa Manin, quattro grandi concerti evento. Andiamo all'interno a dare un'occhiata alle parole raccolte dal gazzettino da Massimiliano Fedriga. guiderà il centro-destra. Lo sblocco si ricorda in tarda mattinata, dopo giorni di estenuanti trattative, il Via Libera è arrivato direttamente da Roma. Un'animità tra gli alleati. E Tondo invece risponde. Il resto comunque dentro la coalizione. Ha rotto il silenzio ieri, convocando una conferenza lampo all'ora di pranzo. Noi siamo leali e disponibili. Questo per quanto riguarda il gazzettino. Andiamo a dare uno sguardo al piccolo di Trieste. Vincono i leghisti, corre Fedriga. Questo è il titolo di apertura. Salvini ascolta la base e convince Berlusconi. Tondo pieno appoggio. Le altre notizie che troviamo sulla prima del piccolo, richiamo allo sport, ne parleremo più tardi. il pareggio all'ultimo minuto nei tempi supplementari della Triestina che si è imposta nel derby contro il Pordenone. 1-1 il risultato finale. E poi le cronache, criminalità Monfalcone, caso regionale. Andiamo all'interno a vedere prima uno sguardo sulle pagine dedicate a Gorizia e a Lisontino. Si parla di tassa comunale all'azienda sanitaria 123 mila euro di tari. La commissione tributaria restituisce la spesa addebitata e non dovuta per lo smaltimento dei rifiuti speciali fatto in proprio. E poi il progetto a Palazzo Paternoli, Museo Michael Stender, è un centro culturale più vicino all'acquisizione dell'immobile di Piazza Vittoria, l'accordata appunto al coinvolgimento della Ernest N. Young. Andiamo a vedere le pagine anche dedicate a Monfalcone. Si parla di fincantieri, Horizon, Panzano Trieste per il debutto, la nave non rientrerà a Marghera, cerimonia la prossima settimana, 8 mila al lavoro per rispettare i tempi di consegna. Dalle pagine del piccolo dedicato a Lisontino andiamo a quelle di Trieste per ritrovare i temi politici all'interno con la lettura della questione relativa alle regionali. Vedete, Ribaltone, centrodestra, Fedriga. Il candidato sciolte le riserve a Palazzo Grazioli, il leghista corre per la presidenza FVG, tondo, rimpiazzato, non si scompone, confermo, un appoggio convinto. Si apre anche un caso per quanto riguarda il Parlamento in caso di successo di Max, ci sarà un nuovo parlamentare frulano, Aurelia Bubisutti entrerà alla Camera, era quarta nel listino della Lega Nord alle politiche del 4 marzo. Gli affanni finali nel rush per le liste è un tema da non sottovalutare perché Fratelli d'Italia e Bini devono correre difficoltà per Open Sinistra FVG nella Venezia. Giulia D'Azilli aiuto ai patrioti per dare una mano sarà di persona sul territorio, anche i Dem in soccorso a disposizione degli altri a cominciare dagli autenticatori c'è anche sul piccolo l'intervista a Federica una scelta del popolo ora al lavoro da squadra il neolider della coalizione dopo l'investitura con Forza Italia rapporti ricuciti la base mi ha emozionato e Salvini ha dimostrato di ascoltare la sua gente. Andiamo a vedere le altre voci sempre sul capitolo raccolta firme Lauri la nostra missione nel simbolo chiede la sottoscrizione Bini si dice ottimista e poi c'è anche il candidato autonomista Sergio Cecotti è vicino alla consegna sabato dalle 8 alle 20 domenica dalle 8 alle 12 la scadenza questo per quanto riguarda il piccolo ora torniamo a parlare di Pordenone con il messaggero di Pordenone andiamo a vedere assieme i temi che troviamo all'interno nella cronaca cittadina ritroviamo il caso delle ricariche dei telefonini a scuola vietate in classe combinate 8 multe per fumo invece sull'altro fronte poi ancora all'interno le altre notizie dedicate alla città c'è la situazione della Camera di Commercio il commissario tira dritto sono un tecnico il compito di indire le elezioni per l'ente unico con Udine ci fermiamo qui con il racconto dei quotidiani regionali e nazionali poi passeremo naturalmente alla parte sportiva prima di farlo il nostro ricordo il nostro flash sui programmi della giornata su Udinews TV grazie al box riepilogativo lo vedete questa sera lo speciale all'ora 19.30 lo speciale viceversa udinese sotto attacco il club risponderà alle accuse arrivate ieri dal quotidiano La Repubblica mentre per quanto riguarda l'agenda di Alberto Terasso alle ore 21 si parlerà di scuola con Far West Scuola noi ci fermiamo dunque con la pubblicità torniamo tra poco con lo sport grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti